Archiviata la tre giorni delle coppe europee con un grande bottino per la Serie A, due squadre in finale in Europa e Conference League, si è ripartiti ieri con la terz'ultima giornata di Serie A. Attenzione ad Atalanta-Roma, Juventus-Salernitana, partite decisive per la lotta Champions League. Oltre che le Ceudinese, scontro diretto che può decretare la salvezza matematica dei Salentini. Genoa-Sassuolo, domenica, ore 15. Genoa, 352, Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Torsby, Badel, Frendrup, Martin, Gudmundson, Retegui. All. Gilardino.Sassuolo, 532, Consigli, Tolian, Erlich, Cumbulla, Ferrari, Doig, Bologna, Obiang, Torstvd, Lauriente, Pinamonti. All. Ballardini.Ella Sverona Torino, domenica, ore 15. All. Baroni.Torino, 3412, Milinkovic-Savic, Masina, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Tammes, Ilic, Voivoda, Ricci, Sanabria, Zapata. All. Iuric.Juventus Salernitana, domenica, ore 18. Juventus, 352, Scesni, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, Meceni, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.Salernitana, 3421, Fiorello, Pierozzi, Fazio, Pirola, Sambia, Culiballi, Besic, Sfait, Tceauna, Vignato, Iquemesi. All. Colantuono.Atalanta-Roma, domenica, ore 20.45. Atalanta, 343, Carnesecchi, Scalvini, N, Bonfanti, Hatebur, Pascialit, Adopo, Baccher, Miranciuc, Toure, Lucman. All. Gasperini.Roma, 433, Svilar, Christensen, Mancini, Smolin, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Sharawi. All. Derossi.Lece Udinese, lunedì, ore 18.30. Lece, 4231, Falcone, Gendri, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Blin, Ramadani, Almqvist, Uden, Dorgu, Krstovic. All. Gotti.Udinese, 3421, Okoye, Perez, Biol, Christensen, Ejibue, Zaraga, Walasi, Pajero, Pereira, Samarcic, Lucca. All. Cannavaro.Fiorentina Monza, lunedì, ore 20.45. Fiorentina, 4231, Terracciano, Keyode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi, Lopez, Duncan, Icoe, Barac, Castrovilli, Quame. All. Italiano.Monza, 4231, Di Gregorio, Birindelli, Mari, Izzo, Chiracopulos, Gagliardini, Pessina, Colpani, V. Carboni, Zerbin, Diurige, Paul, Palladino.